Ozzegna ha vissuto un momento di festa domenica 12 marzo in occasione del tradizionale ritrovo dei B.O.R. che si è tenuto in occasione della ricorrenza dei Santi Isidoro che è il patrono dei puntadini. L'iniziativa, che è stata allestita sotto l'egida della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, ha visto il centro dell'attenzione il locale Gruppo Zegnese, le donne col diretti, il Comune e i Priori, che hanno dato vita a una giornata riuscita e molto partecipata. Alla presenza del consigliere regionale Mauro Fava al fianco del primo cittadino Sergio Bartoli e dei componenti dell'amministrazione comunale cittadina, l'uscita si è aperta nel Palazzo Comuneale, dove alla presenza del presidente Davide Imonetto e dei Priori 2023, Daniele Brunasso, Marica Giovando e Mauro Vagina, c'è stato ritrovo. Quindi accompagnati dalle note della banda musicale su Carenzo, i presenti si sono trasferiti nella chiesa parrocchiare per la Santa Messa, a cui ha fatto seguito la benedizione dei mezzi agricoli che sono stati schierati in piazza Umberto I. A chiudere la festa il rinfresco che si è tenuto presso il palazzetto dello sport di Uzzegna, nonché il pranzo che si è svolto sempre nella cornice della struttura intitolata a Natalina Marena. Ciao! Ciao!